Ragazzi, ciao a tutti, bentornati sul nostro canale o benvenuti. In realtà non so mai se qualcuno è la prima volta che passa di qua o se ritorna, quindi bentornati e benvenuti è politicamente corretto, dovrei guardare cosa fanno gli altri youtuber per decidere come salutarvi. Comunque, nel video di oggi vorrei spiegare un pochino la differenza tra apprendimento attivo e apprendimento passivo, perché credo che sia importante, dopo vediamo perché. Allora, come probabilmente saprete, quando si parla di apprendimento linguistico si parla principalmente di quattro aree specifiche, no? Parlare, leggere, scrivere e ascoltare, no? Due di queste quattro aree fanno parte di quello che viene definito l'apprendimento attivo di una lingua. Due, invece, fanno parte di quello che è l'apprendimento passivo. In realtà poi ci c'è una serie di sfumature, il mondo non è mai tutto bianco, tutto nero, ci sono scale di grigio in mezzo, però, diciamo, in generale ascoltare e leggere sono abilità passive, perché non devo attivamente produrre del linguaggio, produrre qualcosa, mentre parlare e scrivere sono definite attive. Perché è importante conoscere questa distinzione o questa definizione? È importante perché, in generale, durante la vostra routine di apprendimento di una lingua straniera, indipendentemente dalla lingua, quello che volete fare probabilmente è andare a bilanciare un po' apprendimento attivo e apprendimento passivo. Perché? Allora, evidentemente l'apprendimento attivo, lo dice nella parola stessa, attivo, è legato alla produzione. Come detto, richiede uno sforzo a livello mentale molto più elevato che non l'apprendimento passivo. Quindi, se volessi fare una giornata intera, prendiamo un esempio, a studiare, non lo so, il tedesco, sarà difficile riuscire a fare una giornata intera di apprendimento attivo. No? Quindi, magari le prime ore della giornata o il primo lasso di tempo della giornata, quando ho più energia che voglio dedicare alla lingua, lo andrò a dedicare a apprendimento attivo. Quindi farò quelle attività che richiedono uno sforzo mentale maggiore. Quando sono un po' più stanco e non ha senso che mi metta a fare apprendimento attivo, perché poi mi stanco, andrei insieme col cervello, non capisco più niente, diciamo così. Allora, piuttosto che non fare nulla, potrei dedicarmi all'apprendimento passivo. Quindi, ad esempio, metto su della musica, non lo so, nella lingua che sto imparando. Prendiamo l'esempio del russo, mi ascolto della musica in russo mentre, non lo so, mi rilasso a casa, oppure mi ascolto un podcast in russo mentre cucino, no? Quindi, apprendimento passivo in generale è, ad esempio, ascoltare musica, ascoltare podcast, guardarsi un film, leggere un libro, questo genere di cose, no? Non sto producendo linguaggio, la lingua. Apprendimento attivo sarà, invece, scrivere un testo, fare degli esercizi, parlare con qualcuno, fare shadowing. Vi lascio il video alla tecnica dello shadowing per migliorare la pronuncia, ne abbiamo parlato in passato. Altre cose che, diciamo, mi occupano in maniera più attiva. Ora, è molto importante dire, ovviamente, che proprio perché l'apprendimento attivo richiede uno sforzo maggiore, è anche più efficace. Quindi, se io mi metto a fare solo apprendimento passivo, ci vorrà un bel po' prima che io possa imparare la lingua. Onestamente, non conosco nessuno che abbia imparato una lingua solo, solo, al 100%, facendo apprendimento passivo, no? Perché parlare aiuta, scrivere aiuta, soprattutto se voglio sviluppare la capacità di scrittura. Nel caso del russo mi viene in mente anche l'alfabeto è diverso, quindi diventa fondamentale. Quindi, cerchiamo di bilanciare un pochino queste due attività, però prendiamo coscienza del fatto che se vogliamo studiare in maniera più efficace, più efficiente, ci tocca fare apprendimento attivo, mettiamo energia in quello che facciamo. L'apprendimento passivo utilizziamolo, tra virgolette, per i momenti morti, ad esempio quando sto cucinando o se andate in palestra e vi ascoltate un podcast in russo, va benissimo. Se no, cerchiamo di, in qualche modo, connetterci con la lingua in modo attivo, ok? Questa era un pochino la differenza tra apprendimento attivo e passivo, il messaggio che volevo far passare. Come al solito, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Ciao ragazzi, buono studio!